A chi dovesse affrontare questa battaglia, dico che la prevenzione è importantissima ed è l'unica vera arma che abbiamo a nostro favore. Fatevi controllare per qualsiasi cosa vedete o sentire di anomalo. Non abbiate paura di scoprire perché se preso in tempo aumenta la percentuale di sopravvivenza e si riesce a soffrire di meno. L'accorato e sentito appello alla prevenzione arriva da Francesca, una donna residente in un paese recircondario, che ha raccontato la sua lotta contro il tumore a seno nel libro di Pink Pratola. Il testo dal titolo Arrestiamo la malattia sarà presentato domenica prossima alle 11.30 a Palazzo Colella di Pratola Peligna. Un libro quasi interamente fotografico in cui sono state raccolte alcune testimonianze di donne che hanno vinto la loro battaglia di donne che ancora combattono. Le fotografie del libro sono state appositamente realizzate da Angelo D'Aloisio, mentre le testimonianze sono state raccolte e trascritte da Germano Chiaverini e Nunziatina Santilli. Il progetto è stato presentato nella trasmissione del martedì pronto 18. Mentre camminavamo abbiamo venuto fuori come le avremmo fatte queste foto, abbiamo scelto anche il periodo in cui farle, quindi abbiamo scelto ottobre proprio perché è il mese ufficiale della prevenzione a quelle che sono i tumori del seno, e abbiamo scelto anche l'hashtag che poi adesso è diventato il titolo di questo libro, e quindi arrestiamo la mafia. L'unica scelta che è stata fatta sulle donne rappresentate con le fotografie nel libro era che dovevano essere donne sane. Perché comunque questo? È una malattia che spesso e purtroppo viene sottovalutata, però può prendere a chiunque, anche se oggi si chiama hashtag, però il segnale forte sulla foto di impatto, che non è una foto con un'elaborazione artistica, ma è una foto semplice, perché paradossalmente questa malattia è semplice, nel senso che non colpisce solo un determinato tipo di donna, ma arriva purtroppo senza neanche chiedere il permesso. Quindi l'unica selezione tra virgolette non è stata affatto un viso fotogenico o altro, ma ho scelto semplicemente un linguaggio in bianco e nero, perché se no il bianco e nero ferma comunque il tempo, è delle donne, la classica donna di tutti i giorni, con uno spaccato nella società. Fra le storie che raccontano lo spaccato della quotidianità di chi si ritrova a lottare contro il mostro del tumore, c'è anche quella di Francesca, che ha saburo trasformare il dolore in un'opportunità, mutare le lacrime versate in un appello per le tante donne che rimandano a domani, il controllo, la visita di routine che si può fare oggi. Nel caso di Francesca tutto è cominciato dalle secrezioni dal capezzolo, pareva fosse solo un fattore ormonale. All'età di 39 anni decide di farsi visitare da un senologo, che dopo ulteriori controlli scopre dei papillomi, dei tumori benigni. Viene operata la prima volta nel giorno del suo quarantesimo compleanno, ma i papillomi si erano già trasformati e sarà operata di nuovo, fino a quando si accorta dello svuotamento del cavo ascellare. Inizia quindi il ciclo di chemio e di radio. La sua grande forza è stata la vicinanza del marito e il suo carattere forte. La sera andavamo in moto, poi ci compravamo un gelato. Abbiamo cercato di passare tutto spensieratamente, perché ci siamo in posti che doveva andare così, racconta ancora Francesca nel testo, per lanciare poi un messaggio sulla cultura della prevenzione. Fatevi controllare. Mi fa piacere parlare della mia esperienza, per dare fiducia a chi non ce l'ha, aiutare quante più persone possibili.